ciao a tutti oggi è sabato 9 settembre 2023 sono qui in cucina che mi stavo preparando i cereali cotti che utilizzo per la mia colazione quindi ho pensato di fare un video per farvi vedere un po che tipo di colazione faccio è una colazione vegetale senza proteine animale abbastanza sostenibile diciamo e è composta da cereali integrali in chicco e più l'aggiunta di un frullato di frutta di stagione con la frutta una parte di quella che abbiamo qui noi nel nostro frutteto poi l'altra parte l'acquistiamo e poi dopo vedrete che aggiungo cacao amaro cannella un mix di semi e una crema d'arachidi e poi appena di olio quando quando metto a scaldare i cereali allora la prima cosa che dobbiamo fare è preparare e cuocere i cereali e io adesso li preparo li metto li peso vi faccio vedere le quantità e le metto in ammollo e lascio in ammollo una giornata perché perché al cereale integrale l'ideale metterlo in ammollo almeno un giorno così il chicco si gonfia e cuoce molto prima e migliora attiva la cosa quindi si consiglia sempre di metterli in ammollo i cereali e quando si metto in ammollo magari cambiare l'acqua due o tre volte in modo che venga bella pulita l'acqua che il cereale è sempre un po sporco chiaramente perché quando viene trebbiato viene lavorato però un pochino di terra rimane quindi l'ideale è sempre meglio di meglio cambiare diverse volte l'acqua di ammollo allora io utilizzo questa queste quantità per quanto riguarda i cereali che mangio a colazione però poi ognuno può variare come in base al cereale che gli piace di più io metto come base 900 grammi io faccio un chilo e cento di cereali che mi due a circa una settimana una volta cotto poi farò vedere la cottura lo metto dentro dei frigo ver di solito lo fa la veronica io lo faccio questa volta che lei non c'è e faccio dei frigo ver quindi quelli contenitori di plastica di vetro con la capsula di plastica una volta cotti di coach con la pentola a pressione lo metto lì lo faccio affreddare poi lo metto in frigo e dura tranquillamente una settimana che non il rancidisce perché il cereale se viene cotto non viene condito eccetera si può tenere massimo una settimana diciamo settimana otto giorni non succede niente in frigo allora quindi la base è 900 grammi io in questo caso uso il bialone nano l'importante che sia un riso integrale ho usato anche il carnaroli però principalmente uso il bialone nano se lo trovo noi lo acquistiamo attraverso il gruppo d'acquisto solidale da una ditta di una azienda agricola di novara in provincia di novara ci troviamo molto bene sono diversi anni che lo acquistiamo ne acquistiamo considerate ne faccio fuori 5 kg al mese 60 70 kg sono lo vendono in sacchi da 5 kg in stoffa perché è proprio integrale questo qua non è quello che vendono già mezzo precotto nei supermercati quindi la base sono 900 grammi di questo poi aggiungo 100 grammi di orzo o farro questo qua è orzo mondo in chicchi è perlato quindi non è proprio integra integrale per lato adesso guardavo se c'è scritto da qualche parte ma dovrebbe essere per lato questo qua è tutto è tutta roba biologica in teoria e poi acquistiamo e poi metto anche 100 grammi di avena avena credo che sia decorticata questa sempre tutto tutta roba in chicco intera eccetera quindi 900 grammi di bialone nano di riso 100 grammi di ordo e 100 di avena adesso li andiamo a pesare allora qui strata che sono 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 adesso vogliamo ce la faccio sono 200 grammi mettiamo riso fino a che andiamo adesso devo girare la bilancia con la mano rimosta un po complessa cosa vediamo se abbiamo già la nostra bilancina quelle di una volta dobbiamo arrivare un chilo e 100 perché sono 200 di tara quindi 900 grammi di riso siamo quasi 900 grammi di riso integrale vi faccio vedere al riso così vedete un po questo qua riso integrale ci mette del tempo qua c'era questo poi apriamo l'avena adesso ci vogliono sicuramente via fino a un chilo e due andiamo di avena 500 grammi abbondiamo appena questa è l'avena poi adesso apriamo l'orzo l'orzo col tagliarino pian pianino in alto senza rovinare magari la tela cerata una volta tagliato una volta tolto sotto vuoto dopo si sgonfia adesso lo andiamo ad aprire appena così correggiamo la bilancia mettiamo arriviamo fino a un chilo poco più di un chilo e tre e la oltre ok questo diciamo che è il nostro misti cereali quindi si vede l'orzo l'avena adesso li mescoliamo un po poi io aggiungo appena di alga non è non è una cosa tassativa però se ne avete in casa questo qua credo che sia alga nori però non ne sono sicuro perché l'avevo presa anni fa basta un pezzettino così che poi si gonfia e poi aggiungiamo l'acqua pian pianino adesso ho preparato una bacinella qua per non dove andare sotto il lavandino però ne mettete un po e poi andiamo a muovere con le mani e poi mi raccomando ogni magari due o tre volte vedete di cambiate l'acqua in modo che il cereale venga bello pulito e l'acqua sia pulita perché tende chiaramente se il cereale ha un po di terra chiaramente l'acqua tende a sporcarsi poi se vengono su delle pagliuzze le togliete o qualche chicco che non è stato traibbiato bene eccetera magari emerge lo togliete vedete tipo questo vedete questo qua non è un non è né avena né né riso né orzo è proprio un'impurità dovuta la trebbiatura la togliamo poi dopo qua dopo vedete quello che emerge dopo lo togliete se acquistate il riso integrale vi consiglio di ottenerlo in un contenitore chiuso così o altrimenti fargli fare un quando vi arriva metterlo un attimo in congelatore magari una giornata perché tende a fare le farfalle essendo un cereale integrale le farli fanno tutti i veri cereali integrali fanno le farfalline a meno che non siano sottovuoto come quello di prima come questo però tendono sempre a farli l'avena non credo non so perché però riso il farro tendono sempre a fare a farle farfalline quindi ricapitolando 900 grammi di riso velone nano 100 grammi di orzo mondo decorticato credo che sia però non sono sicuro va bene anche integrale e poi 100 grammi di avena sempre decorticata li mettiamo in ammollo con acqua abbondante teniamo cambiata l'acqua due o tre volte in una giornata in modo che venga bella pulita dopo se c'è qualche impurità la togliamo e dopo una giornata cuoceremo il tutto e vi farò vedere come come effetto la cottura con la pentola pressione eccetera allora è passato una giornata da quando abbiamo messo in ammollo i nostri cereali per preparare la nostra colazione abbiamo cambiato l'acqua tre volte adesso vedete è bella limpida l'alga si è gonfiata e adesso cosa facciamo questa è la pentola pressione che andremo a utilizzare è una WMF non so da quanti litri è ma è bella è bella capiente ha uno stantuffo che ci dà adesso lo sto appiggiando col dito ci darà quanta pressione c'è nella pentola perché adesso andremo a mettere i cereali dentro la pentola e poi dopo riempiremo fino appena sotto a questa tacca qua che è la tacca massima perché dobbiamo mettere la quantità esatta d'acqua in modo che i principi nutritivi rimangono tutti nel riso perché non dobbiamo scolarlo dobbiamo mettere la quantità giusta così quando sarà cotto lo andremo a prendere con il mestolo e lo andremo a mettere nel frigo e lo faremo raffreddare poi lo metteremo in frigo senza scolarlo perché così manteniamo tutte le qualità nutritive dei cereali, i sali, minerali e tutto ora adesso proviamo con una mano a prendere senza rovesciarlo magari e andiamo a metterlo dentro pian pianino vediamo se ci riesco con una mano senza fare disastri o cani dopo lo raccolto allora adesso se andiamo a vedere che livello è adesso è a metà circa andremo ad aggiungere l'acqua in modo che arrivi a due terzi il lavandino chiaramente bisognerebbe cercare di metterlo dritto guardiamo dove è la nostra tacca la sono già persa di vista eccola lì adesso andiamo a riempire mettiamo l'acqua calda così risparmiamo sull'energia elettrica e andiamo poco sotto così così va bene poco sotto il massimo poi prendiamo il tutto andiamo a sistemare qua così adesso non lo accendo comunque andiamo a posizionare chiudiamo il tappo perché devo raccogliere mettiamola sicura qua con tre movimenti questo è l'ultimo e poi dopo accendo l'induzione io la metto a 12 adesso pian pianino si scalderà saliranno le tacche appena arriva a tre tacche nel nostro caso dopo metto l'induzione a 1 e aspetto 35 minuti se poi vedo che scende a 2 magari accio a 5 o 6 in modo che torni su e lo cuocio a 35 minuti dopo 35 minuti adesso vi farò vedere quando è cotto quando lo mettiamo nei frigo allora abbiamo cotto i cereali sono passati allora ho acceso alle 11 e mezza dopo 35 minuti la pentola a pressione è andata in pressione perché è salita la prima tacche si è chiusa la valvola alle 12 e 15 c'era la terza tacche poi ho messo il fornello a induzione a 1 e dopo alle 12 e 50 quindi un'ora e 20 dopo aver acceso i cereali sono andati in sono cotti sono pronti adesso vedete ho uno adesso spengo prendiamo la pentola con una mano senza che pesa un accidente poi la facciamo così che se no non riusciamo ok la facciamo sgasare facciamo scendere la pressione intanto prepariamo i frigo li apriamo ci servirà il mestolo adesso proviamo a farlo direttamente qui sul tavolo di solito lo facciamo sul pallavandino ma lo faremo qua perché così viene adesso sgasiamo bene ci mette un attimo perché ho accumulato un sacco di pressione sono anni che utilizziamo questa tipologia di pentola a pressione ci troviamo bene ne abbiamo due abbiamo questa più grande e poi ne abbiamo una un po' più piccola questa qua non mi ricordo se se da 3 litri e mezzo quella più piccola è da 1 litro e mezzo o 2 la veronica la usa per cuocerci questa la usiamo principalmente per cuocere o grandi quantità di cereali tipo un chilo o questi qua per la colazione mentre quell'altro la veronica la usa per i ceci quando deve fare appena di legumi usa magari quella allora adesso vediamo se riusciamo a sganciarla usiamo proviamo con l'altra mano spoggio un attimo la fotocamera tanto la sganciamo adesso la mettiamo direttamente qua così ok allora questo è come si presenta una volta cotta la consistenza è perfetta l'acqua che c'è sopra dopo viene assorbita adesso giriamo e con calma un mestolo alla volta senza fare grossi danni passiamo i cereali sembra un risotto in pratica una mestolata alla volta andiamo a riempire i nostri frigo l'importante come vi dicevo è prendere la quantità giusta d'acqua in modo che così non vadano non vadano scolati una volta messi dentro poi si gonfiano chiaramente sembra che ce ne siano qui c'è la larga ne facciamo uno bello pieno poi adesso prendiamo l'altro e andiamo a riempirlo con calma sotto è un attimino un po' più più duro perché l'acqua era principalmente sopra adesso si è assorbita adesso qui non sto qui a tediarvi con tutta la lavorazione comunque una volta una volta che sono che sono pronti li lasciamo raffreddare un attimo e poi mettiamo le capsule li lasciamo qui con due arete in modo che si raffreddano e una volta che sono freddi li mettiamo in frigorifero e così sono pronti per la mattina dopo dopo ne prenderemo una parte e la metteremo in un tegamino io uso questo qua questo qua io utilizzo questa tipologia qua sempre della VMF ne metto circa 120-130 grammi e poi adesso vi faccio vedere l'ultima parte di quando la metto nel la scaldo perché chiaramente essendo in frigo la riscaldata e poi la metto nella ciotola una bella ciotola e poi la guarnitura con la frutta eccetera allora ho preso i cereali che abbiamo visto prima che abbiamo cotto insieme preparato eccetera adesso ce li ho sul fornello induzione qui l'ho impostato a 6 su 14 una fiamma piccola 10 minuti lo riscaldo adesso non riesco a mescolarli bene perché posso usare solo una mano perché andiamo in altra la fotocamera comunque una volta che sono belli caldi ho messo un filino d'olio sotto e poi ho preso dal frigorifero i cereali che avevo messo nel frigo durano una settimana una volta cotti io ne faccio circa metà di questo pentolino qui e poi una volta che che sento che sono caldo spengo l'induzione e mi trasferisco al tavolo della colazione vi faccio vedere un po' tutto il dettaglio allora oltre ai cereali in questa ciotola grande metterò cacao cacao in polvere amaro noi che è questo qua noi lo prendiamo da coro però potete prenderlo dove volete e prendiamo le confezioni d'anchilo perché ne mangiamo molto e non ha zucchero mi raccomando senza zucchero chiaramente non ha senso fare una una colazione del genere e poi utilizzare del cacao con lo zucchero cacao amaro poi e la Veronica prepara un mix di semi quando ha voglia li trita un po' in questo caso le ha tritati li mettiamo dentro il tritatutto e gli dà una tritata perché è meglio i semi che trovati che noi mettiamo in questo mix sono semi di sesamo in questo caso semi di girasole che si prende sempre le confezioni grandi poi mettiamo semi di cia questi piccolini e poi mettiamo sapete che non so se il cia o papavero questo comunque mettiamo sia i semi di cia sia i semi di papavero e poi questo qua è la farina di cocco e questo qua diciamo il mix che fa la Veronica poi mettiamo la cannella che è da solo tutta mi è caduta un po' in giro che è questa qua sempre il sacco grande e poi per guarnire il tutto utilizziamo una crema d'arachidi solo arachidi niente niente sale zuccheri vari praticamente sono arachidi macinati questi qua li avevamo presi da Prozis perché li aveva li aveva finiti coro e lo prendiamo da coro indifferente uno va l'altro li farà la stessa ditta perché la confezione è identica cambia solo il coro del tappo e Prozis ne ha due versioni è la versione liscia che è questa è la versione crunchy che ha qualche pezzetto i pezzetti un po' più grandi sì una vale l'altra a me piacciono tutte e due ora prendiamo i nostri cereali e li mettiamo nella nostra ciotola adesso con una mano è molto difficile mi raccomando un filo d'olio sotto e come vi ho fatto vedere è riso integrale avena e faro orzo dipende da quello che abbiamo potete mettere quello che volete forse è meglio preferisco l'orzo l'orzo nudo chiaramente ci sto mettendo un'ora perché non avendo utilizzando la mano altrimenti uno prende il pentolino così ci va sopra è più quello che rimane poi prendiamo i semi vediamo se riesco a aprire con la mano non riesco appoggiamo un attimo la telecamera li apro tutti che così sono già aperti ok allora i semi io ne abbondo abbondo sempre tanto ne muoiamo un po' poi cacao amaro io ne metto due o tre cucchiaini perché a me piace ce ne metto mi piace bello scuro se no dopo non so di niente di cannella ne metto poca proprio una puntina proprio un minimo e poi della crema d'arachidi io uso il coltello ne prendo appena così ora ne mettiamo appena questo dà molto gusto cioè quello che dà un po' di gusto tutto è il cacao amaro e la crema d'arachidi oltre chiaramente al al frullato allora il frullato spostiamo un attimo qui il frullato l'ho fatto quando mi sono alzato non so è un po' ossidato dopo vi spiego io ne faccio abbastanza sono mele che abbiamo raccolto qui nel nostro frutteto pesche che abbiamo raccolto nel nostro frutteto e poi ho messo una banana perché ne avevo lì che stavano andando però potevo evitare non c'è zucchero nient'altro e aggiungo un po' di acqua naturale perché altrimenti non riesco non riesco a farlo perché le mele asciugano sono asciutte poi mettiamo tutto dentro così vedete che sotto non è ossidato poi mescoliamo con calma e questa è un po' la colazione che io faccio io ho fatto 36 anni ho 41 anni adesso ho fatto 36 anni senza fare colazione poi quando mi sono trasferito qua con la Veronica che è praticamente mi sono trasferito a 10 metri da casa di mia mamma dove abitavo prima vabbè e abbiamo abbiamo cercato di trovare una colazione che sfamasse prima di tutto perché a me piace piacciono molti cereali cereali integrali che contengono fibra sfamano riempiono e hanno un sacco di vantaggi rispetto ai cereali raffinati che che a me non sfamano niente non so ne mangierei chili e chili e ho sempre fame mentre così con questa colazione qui io faccio colazione alle 7 di mattina e fino all'una non ho problemi cioè non mangio niente non bevo perché dopo ci bevo magari un bicchiere d'acqua naturale quando faccio colazione e questa qua è in pratica una modifica della crema di cereali che viene utilizzata in macrobiotica noi non non li frulliamo i cereali perché abbiamo provato ma no a me non piace viene tipo un pastone delle galline io lo chiamo questo qua già non si presenta bene perché a vederlo così uno che non l'ha mai assaggiato dice cosa mangi e cosa azioni in realtà dopo magari i primi giorni uno fa un pochino fatica però dopo quando quando una persona si abitua io mi trovo molto bene come dicevo è una mia colazione da 5 anni tutti i giorni io me la faccio me la fa la Veronica io mi faccio il frullato perché cereali prepara lei di solito e io mangio questo la Veronica lo fa leggermente diverso lei lei utilizza la frutta a pezzi che è meglio bisognerebbe utilizzarla a pezzi però io riesco ad amalgamarlo meglio con con col frullato poi lei usa fa i fiocchi d'avena lei utilizza solo l'avena prende l'avena abbiamo la fiocatrice quella manuale si fa i fiocchi quindi si può fare in diversi modi questo è il metodo che faccio io che è un metodo una volta preparati i cereali in frigo non tira fuori due minuti li prepara il frullato basta per la frutta eccetera si fa la svelta e pochi minuti si prepara adesso io l'ho fatto lentamente oggi perché volevo farvi vedere un po' tutto il dettaglio dei vari semi cacao crema d'arachidi altrimenti in un minuto faccio tutto e io mangio questo la mattina vi consiglio di provarla fate magari se non siete abituati a mangiare cereali integrali cominciate a mangiarli pian pianino e poi fate questa colazione perché se non si è il vostro intestino non è abituato magari i primi giorni fate primo mese fate un po' di fatica provate qualche settimana io ve la consiglio non aggiungete zucchero non aggiungete sale niente mangiatela così com'è pian pianino uno sabito magari all'inizio mettete un po' più di crema d'arachidi che aiuta molto che lo rende molto più buona e poi il frullato noi lo facciamo con le frutti di stagione nel senso per dire abbiamo tutta l'estate abbiamo mangiato quello con mori lamponi magari se abbiamo l'albicocca se abbiamo le pere le pere vengono un pochino dopo magari le susine però principalmente mori i lamponi poi magari uno prende una banana quando è in giro se la vuole aggiungere perché la banana dà molto il gusto dolce buona poi mangiamo un sacco di cachi nel senso a me piace farlo con i cachi quando sono pronti la novembre magari metto due cachi ben maturi metto il pena di more che congeliamo o lamponi magari i kiwi dipende dalla stagione quello che c'è quando non c'è proprio niente magari prendiamo gli ananas pere mele e un frullato con appena d'acqua uno dopo uno lo mescola dopo bene o male un frutto vale l'altro chiaramente più il frutto è dolce più è buono eccetera qua i cereali ne avevano messo considerate con la ricetta che ho fatto vedere che è un chilo e cento di cereali ci faccio una settimana circa sei giorni sette quindi sono un po' più sono cento cento sui cento dei cento venti centocinquanta grammi al giorno mangio e riempie da un sacco di energia anche se vedete direte ci sono un sacco di calorie però sono calorie vegetali quindi io non ho mai avuto problemi nel senso sono abbastanza in forma anche se faccio una colazione del genere poi la colazione chiaramente è il pasto più importante della giornata e questo è un po' è un po' tutto volevo farvi vedere un po' questa la mia colazione perché ho detto magari a qualcuno interessa qualcuno vuole cambiare invece di mangiare il latte con le fette biscottate la marmellata magari vuole provare una colazione senza zuccheri aggiunti con cereali integrali non affinati provatela io ve la consiglio se poi vi trovate bene scrivetelo magari nei commenti che mi fa piacere leggerlo o iscrivetevi al gruppo di telegram che discutiamo se avete qualche domanda qualcosa da chiedere scrivete scrivete pure e nient'altro vi ringrazio grazie mille e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao